e buonasera a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale con un nuovo video dove siamo siamo sempre in giro oggi siamo qui a lubiana capitale della slovenia oggi ragazzi vi faremo vedere la città e soprattutto la cucina slovena quindi proveremo qualcosa di tipico e vi faremo vedere quindi non perdiamoci in chiacchiere tuffiamoci in questo tour è solo vero immagino There was once a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd notice too Sneaking looks up and down from across the room Damn what a hell of a view I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time, to my place I feel my heart erase So catch me if I fall I'm falling fast Sittin' here prayin' that this night's gon' last You got it all on tap I'm lovin' your vibe Always have your back We like all the same tracks Listen all night in the sheets all black Said I'm falling fast Don't remember life before you that's fast I feel good You look great I like you I can't wait Ragazzi è arrivato il momento de Magna quindi andiamo Per fortuna eh perché è qui Quindi andiamo a mangiare nel ristorante Sarajevo 84 che è un ristorante tipico Della Slovenia penso Della Slovenia e anche cucina balcanica Quindi ci sarà un po' di tutto Immagino tanta carne vedremo vedremo In secondo me Ci vediamo dentro ciao Ragazzi questo è il locale Noi siamo qua Speriamo bene ragazzi Non ho paura io È un locale tipico Dani ha preso il polpol che è rotoli di carne alla griglia e salsiccia E io ho preso sarajevi narezesk che è salami e formaggi diversi Mai sempre No Ragazzi intanto è arrivato questo alla mamma che è maloppone Ragazzi è arrivato l'affettato misto e anche sto coso qua per Dani E adesso lo assaggiamo questo mi attira Non è il mio Anche dai Ragazzi assaggiamo Dani mi ha dato anche un attimo sta cosa da assaggiare Assaggiamo Molto assaggiamo anche questo formaggio col focaccino Questo formaggio è tipo fritta Non è male È buono È buonissima raga Ci sta un sacco Pane con la salsiccia diciamo E pane tipo fritto però Sì Non mi fai assaggiare Nooo c'è niente Ragazzi ho fatto un misto con salame questa roba qua e il formaggio e vediamo com'è Ok ragazzi adesso assaggia anche Dani il salame Adesso assaggiamo anche la bresaola penso È molto strano però non è male Mi ha dato questa roba qua ma io ho pieno di roba da mangiare Ma io sono gentile Ragazzi vi diciamo già le valutazioni finali perché se no dopo non ce la facciamo Complesso un 7 più Forse il formaggio questo qua è un po' acidulo Diciamo voto complessivo 7 più Dani tu Io ho un 8 ci sta ci sta è buono Ragazzi ci vediamo direttamente al dolce La palacinca Ragazzi siamo qua delle palacinca Io ho preso una palacinca alla marvellata di non so cosa perché mi ha detto ma non ho capito niente Mentre il cameraman ha preso un waffle alla nutella con la grana alba Dani invece non mangia niente perché non ha fame Assaggiamo Pala cinca Ragazzi assaggiamo il waffle alla nutella Molto buono Ragazzi risulta molto sostanzioso e molto nauseante dopo un po' È iniziato anche pure a piovere adesso Ragazzi con la pioggia la palacinca Buonissima Che abbiamo appena mangiato È tutto Speriamo che questo vlog a Ljubljana vi sia piaciuto E in caso se volete altre città o altri video Altri vlog e robe varie Scrivetelo qui sotto nei commenti Fateci sapere mi raccomando se siete stati a Ljubljana Perché non tutti sono stati Per esempio io sono stato solo una volta E non è mai stata Quindi fateci sapere anche voi se non siete mai stati Non c'è nient'altro a dire Quindi ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao Ciao